L'associazione di promozione sociale il Tre Ruote Ebro ha organizzato nell'ambito del progetto finanziato dal fondo Puglia Capitale Sociale, finanziamento riguardante i progetti e le attività derivanti dal terzo settore, un'iniziativa intitolata il Girotondo dell'Educazione, appuntamento per sensibilizzare la cittadinanza all'importanza della tutela del verde e alla valorizzazione del paesaggio rurale. Così domenica mattina alle ore 11 presso Via Nardelli 101, bambini e componenti dell'associazione assieme ad alcuni amministratori del comune di Locorotondo si sono dati appuntamento per collaborare in sinergia al fine di piantumare piccoli arbusti e piante educando a nuove forme di sviluppo ecosostenibile. È un evento che mira soprattutto a promuovere la biodiversità attraverso le piante del territorio perché Locorotondo è riconosciuto come un'area legata alla biodiversità in agricoltura. Questa è solamente la prima fase perché dopo di ciò ci sarà anche da parte dei ragazzi il mantenimento, cioè nel senso che devono venire, devono innaffiare, devono fare la manutenzione e nello stesso tempo insieme ai nostri partner ci saranno anche la creazione dei percorsi turistici proprio inerente alla chiesetta di Sant'Anna ma anche del tratturo di Grofolio. In modo tale che possiamo rendere fruibile il tratturo di Grofolio da parte dei turisti ma anche dai nostri residenti, in modo tale che nei momenti in cui stanno visitando il nostro centro storico possono attraverso la scalinata dei Templari scendere giù, andare fino alla circonvallazione scoprendo ovviamente il nostro territorio, quindi risalire, visitare la chiesetta di Sant'Anna e ritornare ovviamente a visitare il nostro centro storico o andare nelle varie località turistiche. Questo è proprio il senso del progetto. All'interno non c'è soltanto un intervento legato alla piantumazione ma stiamo anche parallelamente lavorando con le scuole alla creazione di contenuti, anche multimediali, che andremo a dislocare all'interno di questo percorso affinché il percorso sia fruibile facilmente da turisti. Quindi l'idea è quella di continuare a trasmettere sempre la propria identità, la propria cultura, il proprio territorio attraverso delle pratiche che possono coinvolgere genitori, figli e società civile. Dobbiamo ringraziare le associazioni, quelle del terzo settore che sono la parte vitale di questo paese e grazie a loro che si possono fare tante di quelle manifestazioni di interesse veramente generale e pubblico. Oggi dobbiamo fare questa piccola piantumazione che è un risveglio per la natura, che è quella che comunque noi ce l'hanno regalata la natura e noi abbiamo scelto di vivere in questi posti. Io credo di aver scelto il posto giusto perché il mio paese è uno dei paesi borghi più belli d'Italia e anche dal punto di vista di verde diventerà il paese più green della regione Puglia. Permettetemi di fare questa piccola considerazione.